Buongiorno carissimi telespettatori e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Casa Chalet. Dunque, eh sì, anche questa mattina Don Francesco mi ha lasciata da sola, ma sta arrivando, dopo andiamo a fare il sopralluco in cucina perché sapete che va a beccare sempre in cucina e avrà un ospite davvero speciale questa mattina, ma l'ospite più speciale ce l'ho io. E' perché forse vi sveleremo chi è liberato o almeno ne parleremo con chi lo sa. Lo so che siete curiosi, lo so perfettamente. E allora una veloce sigla, dai una veloce sigla e torniamo. Ed eccoci qua, sono in compagnia di Gianni Valentino. Buongiorno, buongiorno. E voi direte chi è? Allora, Gianni Valentino è un giornalista, un poeta, un performer, è uno scrittore. E lui l'autore di questo libro, Io non sono liberato. Liberato lo conosciamo un po' tutti. E' questo artista, questo rapper, musicista, come vogliamo chiamarlo? Rapper no. Rapper no. Cantante. Proprio cantante, ok. Che ha praticamente rivoluzionato un po' il mondo della musica e soprattutto, per molti, e soprattutto anche un po' della poesia nostra partenopea. E lui, con una serie di ricerche, una serie di interviste, possiamo dirlo, sei venuto a capo di questo enigma. Chi è liberato? Di tanti elementi di questo mistero, di questo cantante fantasma. Allora, prima di tutto, com'è che ti sei proprio imbattuto nella ricerca di liberato? Tutto nasce da una notte invernale in cui, per fatti miei, ero al computer, scopro 9 maggio, che è il primo singolo che lui ha pubblicato. Quindi parliamo degli inizi 2017, ormai quasi due anni fa. E la canzone mi ha comunque scatenato una magia interiore, perché mi aveva fatto intuire una serie di elementi che erano sintetizzati in questa prima canzone e che poi via via si sono rivelati anche nelle successive tracce. Per cui l'input principale è stata proprio la fascinazione... No, ancora non lo conoscevano in pochi. Sì, sì, pochissimi giorni proprio dalla pubblicazione. E poi nasce un po' come progetto di nicchia, ma poi diventa popolare, popolarissimo. Poi è diventato pop, diciamo nella sua accezione massima, perché ovviamente appartiene alle masse, utilizzando chiaramente tutte le piattaforme digitali, per cui YouTube, Facebook, Tumblr, Bandcamp, che è una piattaforma per distribuire musica e per venderla, oppure altre diavolerie della tecnologia attuale. E quindi lui utilizzando la parte digitale e poi un impianto video prepotente, grazie ai videoclip diretti da Francesco Lettieri, ovviamente la sua icona è diventata immediatamente granitica perché si è fortificata con l'immaginario di Napoli delle persone che vivono la città, dei colori romantici della città e stabilendo poi un'altalena tra il passato della lingua napoletana e quello più attuale che è lo slang, se vogliamo, di strada. Senti, ma allora, in questo libro, io non sono liberato, tu sei un po' il testimone di una serie di ricerche. Tu lo hai anche incontrato, o meglio, diciamo che... Ci siamo sfiorati. Vi siete sfiorati. Via Skype. Cerchiamo un attimo di raccontare un po' quello che c'è scritto in questo libro senza spoilerare. No, 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 anche perché devono leggere loro un po' di contenuti in pagina. Assolutamente, se volete scoprire chi è liberato, poi capiremo se l'abbiamo capito o non l'abbiamo capito perché poi le ipotesi ne sono diverse. È anche un gioco, no, per i lettori. Esattamente. Allora, nel marzo del 2017 sei proprio ad un passo... Sì, un po' eravamo così, c'era uno schermo televisivo. Cioè, che cosa succede? Raccontaci. Succede appunto che lui decise di accettare un'intervista su mia proposta. Quindi tu già avevi fatto una serie di ricerche per cui tu sei riuscita ad arrivare a lui. Stabiliamo un contatto, esattamente. Stabiliamo un contatto. Questo lo scopriamo nel libro. Sì, viene raccontato al dettaglio. Anche perché, come dire, è il mio mestiere, era un momento del mio mestiere. Non ho frugato nei documenti privati o nelle case altrui, sa, intrufolandomi come un ladroncolo. Ma è semplicemente la mia vita di redazione o di ricerca giornalistica. Per cui stabiliamo questo contatto e decidiamo appunto di fare questa conversazione. Solo che lui appunto si inventa questa cosa abbastanza buffa ma molto divertente di mettere una fanciulla distesa seminuda su un divano, di mettere le sciarpe di Napoli, Real Madrid. Tra l'altro oggi c'è questa tristezza dell'eliminazione. All'epoca c'era appunto la tristezza di Napoli e Real Madrid. Va bene. Quindi dialoghiamo. Lui comincia a parlare in maniera molto euforica, divertita, esaltata. Quindi hai sentito proprio la sua voce. Assolutamente. Perché è napoletano. Sì. Dubiti. No, no, è tipo il segreto di Babbo Natale. Lui sta un po' più a sud di Babbo Natale, diciamo così. Ebbene, se lo direi. Oh, bisogna vedere se Santa Claus, Nicolaus, poi le varie prospettive geografiche. Non ci addentriamo. Per cui tutti d'accordo sul portare avanti questa intervista, solo che lui a un certo punto fugge, scompare e decide di non fare più questa intervista. Con grande stupore, ovviamente, mio e di Paolo De Luca, che era, diciamo, il regista video del collegamento nostro con Repubblica. Però poi, appunto, le mie ricerche non è che si sono interrotte lì. Ho portato a galla, diciamo, nel racconto e nei tanti capitoli che compongono il libro, tutti i vari aspetti, dai live, alla genesi delle canzoni, dalle collaborazioni perdute. Ho intervistato diverse persone che sono state un po' i sospettati. I sospettati o non? Sono ancora i sospettati, no? Perché, allora, diciamo che ci sono tante tesi. È una persona, sono più persone, c'è la voce, c'è chi scrive, c'è una donna, è un uomo. Addirittura, insomma, c'era una tesi del youtuber Diego Laurenti che vedeva in Liberato un ragazzo di Nisida, insomma, in fase di recupero. Una bellissima... Non è così. Quindi, allora, con una certezza possiamo dire che quella tesi la smontiamo. No, varie certezze, ce ne sono tante di certezze. Tra quella tesi la smontiamo. Sì, direi proprio di sì. Diego, mi dispiace. No, vabbè, noi lo vogliamo ancora bene, sempre bene. Quindi, diciamo, non è un ragazzo difficile. Peraltro io mi sono trovato in maniera, come si, casuale, sul Borgo Marinari, sull'ingresso del Borgo Marinari, una sera in cui Diego stava girando una clip insieme a Adam Gendubi, che è uno dei protagonisti dei videoclip. Quindi, allora, diciamo che... Per spiarlo, eh? Lì è capitato, lì è capitato. Succede, succede. No, no, no. Cioè, insomma, anche tutte e due avete studiato il fenomeno di liberare... Io ci ho dedicato un anno di lavoro. Tu ci hai dedicato un anno intenso. Hai redatto questo libro davvero molto, molto interessante. E quindi, allora, anche, diciamo, quel famoso 9 maggio del 2018, no? In quel concertone, perché c'erano davvero tantissime persone, per poi poche canzoni, diciamo, alla Rotonda Diaz, è arrivato, liberato. Noi abbiamo delle nostre immagini, spero che la regia le possa anche mandare a copertura, che sono delle immagini che abbiamo girato noi, di liberato che viene, appunto, col gommone. Adesso vorrei farti, però, due domande. Vabbè, una e quindi non è detto che venga da Nisi, da quel gommone. No, può venire da Mergellina, che è di rimpetto, visto che lui la cita in Tutte Scordate Me, o nelle scene ambientate alla radice Mollo Luise, che è proprio davanti agli yacht. Ma, su quel gommone, c'era liberato? Ti hanno detto niente, non gli vuoi cacciare niente? Lì c'erano tante persone, tanti liberati. A un certo punto, però, scende... C'era Calcutta, c'era Calcutta, c'era Calcutta, c'era, da Calcutta, c'era, l'abbiamo visto. Nel nucleo scende, in particolare, un uomo, con una tamorra tra le mani, e questo riferimento con il folk, la tamoreata nera che mescola in Liberato Primo, o il fatto di richiamare queste percussioni, citando la gatta cenerentola di Desimone, tra l'altro la tamorra ritorna anche nel suo camerino al sonar di Barcellona, che, in definitiva, è l'unico concerto che io ho visto in Liberato. Non c'eri all'Aerotonda Riazzi? Ero a New York. Ah, va bene. Stavi bene, insomma. Stavo molto bene. No, peraltro stavo facendo una performance di poesia in un club a New York, nello stesso momento in cui... Che figata. Quello del 9 giugno non l'ho potuto vedere a Milano... Mi dicono un po' il microfono. Quello del 9 giugno non l'ho potuto vedere a Milano perché mi è stato impedito l'accesso dal suo staff. Sì. E quindi ho preso l'aereo, sono andato a Barcellona... Raccontaci un po' questa cosa che è raccontata nel libro. Sì, sì, sì. C'è tutto nel libro. E la foto che è qui in copertina è uno scatto che ho realizzato appunto al suo concerto a Barcellona. A Barcellona. Durante Into Street, mentre cantava Into Street. Bene, beh, che cosa interessante. Allora, io vorrei anche un po' soffermarmi sui personaggi, no? Perché, diciamo che... Personaggi dei video? No, 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 i propri personaggi che tu hai intervistato. Ok. Perché è chiaro che il dubbio di tutti, cioè tutti vogliono sapere chi è liberato. Allora, abbiamo... Chissà se conta davvero questo, e poi? Questo è un altro indizio. Chissà se conta davvero questo. Però tu scusa, mi hai detto una cosa interessante, che durante il concerto, 9 di maggio a Napoli alla Rotonda Diaz, tu eri a New York. Sì. Ma perché ci tiene a specificare che tu non sei liberato? Ah, il titolo, dici? Eh, ma... Perché alcune persone l'hanno anche sospettato. Siamo sicuri che tu non sei liberato? No, no, non lo sono. Vabbè, c'è un video che riguarda la mia performance a New York, quindi... Ah, quindi è tutto... È testimoniato. Quindi sicuro che non sei tu liberato? No, e soprattutto... Sì, questo titolo sembra autobiografico, io non sono liberato, ma non lo è. Perché poi tutti dicono, no, no, io non sono liberato, io non sono liberato, io non sono liberato. No, 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 perché è vero questo, come dici tu, Carmen, che alcune persone mi hanno scritto anche su Facebook o per strada, ma non è che sei tu, perché facendo performance di poesia, musica, con DJ, eccetera, eccetera, perché no? No, anche perché io parlo molto il napoletano, però mi permetto di dire, a differenza sua, non faccio una serie di errori che sono anche abbastanza delicati. Ah, quindi volendo, no? Cioè i nostri telespettatori, cioè tu mi hai parlato di errori. Sì. Ne parli anche nel tuo libro. Sì, uno per tutti è come scritta, proprio graficamente, il titolo, tu discurdate me, e non si scrive così. Manca un H, manca un accento circonflesso. È voluto, ma è voluto, è qualcosa... Ci sono molti napoletani che non sanno, non dico scrivere, ma nemmeno parlare il napoletano. Beh, anche perché diciamo che anche un po' ogni provincia ha il... No, 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 ma io parlo anche di Napoli città. Napoli centro. Eh, tendono a infettarlo con l'italiano e tendono a italianizzare il napoletano. E ma scusa, questo errore, no? Questo errore, può essere indicativo questo tipo... Può essere indicativo per una serie di racconti. Riuscire a immaginare chi è la persona, chi è liberato. Può anche direzionare un po' il discorso. Cioè, volendo, no? No, no, se noi siamo attenti, certo tu, insomma, hai fatto le tue ricerche anche per avere una certezza, no? Ma c'è lo stesso Raisse, per esempio, scrivendo in lingua napoletana con gli Alma Megretta, anche lui dice uno che canta Scenimma Mergellina, non si può sentire, deve dire Margellina, se canta in napoletano. Ho capito, ma questo errore, noi puoi... Cioè, allora, soffermandoci su questo errore... La dice lunga. La dice lunga, perché è un lavoro sul suono. Tu stai creando un progetto musicale, quindi è suono, quello che comunichi alla gente. Ma questi errori non potrebbero essere un po' per sviare? Non lo so. Secondo me sono più errori veri. Ah, proprio veri? Sì. Vabbè, allora, dov'è che possiamo riuscire... Possiamo dirlo, è un giallo. Sì, è un libro che mescola una serie di impianti espressivi. C'è l'inchiesta, c'è il reportage, c'è la narrativa, ci sono decine di interviste. E ringrazio ancora una volta i tanti musicisti, DJ, producer, manager della musica, da Enzo Chiumariello a Pietro Paravella. Cioè, Enzo lavora con Luque ed è uno che conosce molto bene i fenomeni attuali della canzone napoletana. Pietro Paravella è stato il discografico di Daft Punk, anche loro mascherati. Tu sei riuscito però a intervistare tantissimi artisti, alcuni si sono tirati indietro, però. Molti si sono tirati indietro. Ma tipo Stas l'ha intervistato? Stas ha rifiutato. Stas dei Colors, lo diciamo magari per chi non fa subito un collegamento. Capito. Possiamo dire chi ha rifiutato? Ha rifiutato Stas, ha rifiutato Giorgio Moroder. Ah, ha rifiutato. Sì, che compare anche in un momento Instagram in cui dice, citando, guarda caso, i Daft Punk, che abbiamo appena nominato. Non l'aspettavo che Moroder rifiutasse. Sarebbe stato divertente intervistare un compositore che ha cambiato. È fighissimo. Quei sintetizzatori, la dance degli ultimi 40 anni. Poi chi è che ha... Poi ha rifiutato Emanuele Cerullo, ha rifiutato Gennaro Nocerino, che è con Jog, Calcutta, ha rifiutato, sì. Che ci facevi su quel gommone? No, ma soprattutto c'è da chiedere perché Calcutta, come racconta Enzo Chiumariello, a un certo punto alla Casa della Musica, due mesi prima del debito di Liberato, a un certo punto dica ad Enzo stesso nei camerini perché non ci inventiamo un progetto mescolando tipo pop, neomelodico, elettronica con un cantante che non si vedrà mai e guarda caso due mesi dopo viene fuori 9 maggio di Liberato? Non lo so, eh? Non è vero, tu lo sai. Io racconto questi fatti e poi il lettore, così come al cinema ogni spettatore si costruisce la sua trama, il lettore trarà le sue conclusioni. Nel mondo della musica, in questa musica napoletana che ormai è un po' l'evoluzione del neomelodico, no? A tratti sì. A tratti. Vedi, insomma, tanti ascoltatori che hanno smesso il mondo neomelodico. Non so se ha fatto in passato cose, era più dall'ippo oppare in b. Sì, 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 però insomma, oggi c'è un mondo musicale a Napoli, davvero all'avanguardia, eh? Allora, insomma, tra di loro, conoscono il segreto? Eh, gira una sorta di motto tra alcune persone e tra vari ambienti. Chi conosce liberato o non conosce liberato? No, si dice proprio zitte chisapo yoga. Ah, vabbè, quello è... E quindi bisogna tacere, fare silenzio, non dire nulla su questo progetto. Però raccolgo una tua osservazione su quanto sta accadendo oggi a Napoli. Oggi, per dire, gli ultimi anni soprattutto. E infatti il libro vuole essere anche un viaggio molto intenso e molto profondo, ma anche divertito, in tutta la galassia di esperienze e di esperimenti che si fanno a Napoli. Da Inuguinea, che hanno aperto il concerto di liberato sul lungomare, e c'è una... C'è un piccolo aneddoto che lo so, io lo conosco. Tu conosci, però... No, non lo dico, non lo dico. Non lo diciamo. Da Inuguinea a Valelambo, a Ifoia, a Alfredo Maddaluno con Iombe, lo stesso Ivan Granatino che citavi poco fa, Livio Cori... Che ha scritto anche una canzone, tra l'altro, rispetto... Perché lui era uno dei sospettati, ha intitolato questo pezzo proprio liberato, rielaborando un po' il mood di 9 maggio. Lo stesso Livio Cori, che mi ha rilasciato due, tre, quattro momenti di intervista, e lui è... Io ho i miei dubbi tanto su di lui, eh. Guarda, c'è un'intervista al professore Ugo Cesari, che è un foniatra, che ha lavorato a lungo con Bocelli, con Abitabile... No, vabbè, questo libro si deve leggere immediatamente. ...Massimo Ranieri, e il professore, facendo una serie di indagini sue, afferma, prendendosi la responsabilità di quello che dice, che il canto delle canzoni di Liberato appartiene a Livio Cori. Cioè, questo l'abbiamo detto. L'abbiamo detto perché... Abbiamo svelato un segreto in diretta. Perché è scritto, ma... Cioè... Il lettore deve capire come si arriva a quel punto. Per cui, questo libro è appunto... Posso dire... L'avevo detto. L'avevi detto? Sì. Che sarebbe uscito il libro? No. Beh, non son foniatra, però io l'avevo immaginato. Vabbè. Adesso, però... Vai. Io devo farti una domanda a bruciapelo. Devo farti una grande domanda a bruciapelo. Attenzione. Attenzione. Però te la faccio. Vogliamo tutti sapere chi è Liberato. Abbiamo capito qualcosa. Però, adesso noi vi lanciamo un attimino la rubrica che riguarda la sicurezza sul lavoro. Perché, tra l'altro... Priorità. Sicurezza sul lavoro, ma anche nei concerti importanti, quali quello di Liberato. E abbiamo il nostro esperto. Torniamo qui tra pochissimo. Io glielo chiederò. Vediamo se riusciamo a scoprire chi è Liberato. Guardate. Ciao amici di Cassasciale. Bentornati alla RC Safety. Oggi vi parleremo un po' di quello che è la struttura in merito alla sicurezza di un'azienda. Senza la quale non possiamo temperare tutto quello che richiede l'8108. Dallo schema che vedete alle mie spalle si può subito immaginare un po' quella del fulcro all'interno dell'azienda che è il datore di lavoro, dal quale poi si va ad allargare tutte le altre figure. Lo vediamo già dal punto principale successivamente all'RSPP, direttore al datore di lavoro, vediamo l'RSPP, il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, il quale ha la figura a fare invece del datore di lavoro all'interno dell'azienda per la verifica di tutto quello che è l'8108 e quindi la sicurezza del lavoro per i dipendenti. Successivamente troviamo l'ASPP, l'addetto ai servizi di prevenzione e protezione, che dà un'aiuto a quello che è il datore di lavoro o comunque dà l'aiuto all'RSPP. A volte l'RSPP può essere anche esterno, non tecnico, abilitato ai servizi dell'8108 al quale si affide il datore di lavoro. Gli addetti alle emergenze sono le figure qui indicate, addetto all'antincendio, addetto al primo soccorso e il medico competente. Gli addetti all'emergenza sono gli addetti all'interno dell'azienda, i quali si occupano appunto, come lo dice la parola, delle emergenze in caso di incendio o in caso di un primo soccorso. Mentre davanti a cosa c'è il medico competente, che normalmente è una persona esterna all'azienda, la quale si occupa del stato di salute degli dipendenti. L'altra figura è l'RLS, rappresentante dei lavoratori, che fa un po' da unione tra i lavoratori e il datore di lavoro. Verifica se ci sono all'interno dell'azienda delle problematiche sulle lavorazioni che può riportare tranquillamente sia all'RSPP, l'ha detto alle responsabili della sicurezza, sia al datore di lavoro, per verificare se queste problematiche possono essere risolte nel migliore dei modi per evitare rischi e danni ai stessi lavoratori. Non ultimi nella tabella sono i lavoratori che poi sono i protagonisti di tutto quello che è l'80-108, la sicurezza. Che poi riflettevo su una cosa, no? Quest'anno a Europe Music Awards è stato nominato... DMTV. Sì. È stato nominato, liberato, insomma, in una categoria. Sì, aveva la nomination di miglior live act italiano. Chi è andato a ritirare il premio? Chi avrebbe dovuto... Chi è andato? No, lì non c'è andato nessuno perché poi ha vinto Anna Lisa. Vabbè, ho capito, però... No. Chi doveva... È una questione, come dire, che si sarebbe posta nel caso lui avesse vinto. Però è successa una cosa curiosa, manco a farla apposta, che chiaramente racconto nel libro. E me l'ha raccontato uno dei vertici della FIMI, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Quando liberato ha avuto le certificazioni di disco d'oro attraverso le piattaforme Spotify, eccetera. Ovviamente loro si sono fatti sentire per dire abbiamo vinto il disco d'oro, vorremmo la placca che certifica. Eh, venite me la prendi, vieni, vieni. Loro gli hanno detto, ok, volentieri, dateci un indirizzo e un riferimento a chi lo dobbiamo spedire. Sono scomparsi. Adesso parli al plurale. Sono scomparsi in quanto staff, diciamo. Senti, allora, te lo diciamo, bello, chiaro, nude, crude. Tu, sai chi è liberato? Sì, l'ho scritto anche. Eh, non ce lo puoi dire? No, bisogna leggere in particolare... Vabbè, però abbiamo un indice importantissimo. Una serie di pagine. Sappiamo, cioè ad oggi sappiamo, che nel libro... Chi è liberato, perché, insomma, lui ha fatto una ricerca... Ma ci sono tantissime altre notizie, eh, non soltanto sull'identità, diciamo così, perché non nasce per rivelare essenzialmente o esclusivamente l'identità. Nasce per raccontare tutto lo sviluppo del progetto. Dal primo momento in cui liberato ancora non esisteva, fino agli ultimi momenti di ottobre. Chi sa di questo libro? Chi ti ha detto? Ah, non lo so. Tace, lui tace su tutto. Lui tace. Tace su tutto. Ma per la serie, come dicono sempre a Bergamo, perché parlo molto bene il bergamasco, Facciatangorp. Liberato? È liberato, per certo. Tu non c'eri. Senti, ma la 9 maggio... No, cito Bellavista perché lo cita anche lui. Ma 9 maggio SRL di chi è? Allora, sappi che ci sono contratti firmati con atti notarili, per cui nessuno può dire A sul suo ruolo e sul suo coinvolgimento. Ma lui, liberato, qualora dovesse leggere questo libro, no? Sì. Cioè, tu ti sei immaginato... Riderebbe, secondo me. Perché riderebbe? Riderebbe, perché penso a quando ci siamo parlati, attraverso Skype... Ma un sorriso, sai, quello un po' beffardo, poi per dire, ma fat. Non lo so se... Oppure si potrebbe incazzare. Ma forse un po' l'una, un po' l'altra, a seconda dei giorni. Perché dice Magica Mago, e mo? Una cosa del genere. Ma secondo te gli è rovinato un po' il gioco? Perché? No, non lo so. Alcune persone mi dicono che anzi, l'ho portato avanti questo gioco. E la misura per la quale molti hanno sospettato che io potessi entrare nel suo progetto, farne parte, è perché hanno riflettuto, ok, da maggio non esistono più nuovi singoli. A luglio ha fatto gli ultimi concerti, probabilmente era nel piano marketing, adesso stare zitti e far uscire il libro. E poi fra un po' di mesi, i nuovi singoli. Invece non è assolutamente così. Non è assolutamente così. Io sono lontano dal loro circuito. Quando tu hai intervistato tutti quegli artisti, tutti quanti ti hanno risposto, no, io non sono liberato. I cosiddetti sospettati. Sospettati. Quelli che hanno accettato chiaramente. Tutti hanno risposto, no, non sono io. Sì. Ovviamente. Beh, ragazzi, comunque è curiosissimo, io sono davvero molto curiosa. E allora, ricordiamo anche che questo libro ha dei contenuti aggiuntivi. Esattamente, grazie per averlo ricordato. È una cosa figa. Allora, tu lo racconti e io spoglio, vai. Ok. Nell'ultima pagina abbiamo deciso di far fare anche agli lettori una sorta di calcio al tesoro, come è capitato al sottoscritto. Per cui a fine libro, come vedete, c'è questo QR code. Che consente l'accesso, chiaramente attraverso l'applicazione del cellulare, che consente l'accesso a un libro bis che esiste esclusivamente in rete. Quindi su internet c'è un libro di oltre 100 pagine con la cronologia di tutto quello che riguarda la creazione di Liberato. Tra la B-side e il supporto. Una cosa del genere. Con un tenuto interattivo, diciamo così. Che bello. Ci sono ulteriori interviste, materiali extra sui videoclip, sui concerti, a partire diciamo da quel primo tenuto al Miami, in cui Calcutta si esibì sul palco col giubbotto di Liberato, fino a quello di Locorotondo del 6 luglio scorso. Quindi adesso Liberato è in silenzio stampo. Silenzio creativo anche. Silenzio creativo. Quindi però uscirà con qualche altra... Cioè che cosa immagini tu? Per esempio proprio di sì, perché lo dico nell'ultimo capitolo, Napoli English. Dice tutto, quindi dobbiamo solo leggere il libro, insomma. Con tutta calma, adesso ci sono le feste, uno c'ha più tempo libero. Ci fa fare una bellissima idea regalo, insomma. Lo può regalare all'amico, alla fidanzata, al padre che magari sta a casa con calma e si legge questa cosa. Anche perché poi Liberato è molto trasversale, nonostante abbia questo beat molto moderno. Lo dice l'utenza che ha frequentato i suoi live. Assolutamente. Allora, Gianni, il tempo a nostra disposizione è terminato, ti ringrazio, grazie mille. Grazie a te Carmen e a te le clubitate. Vi ricordo, io non sono liberato di Gianni Valentino, andatelo a comprare, leggetelo, io lo farò sicuramente perché davvero... Comunque è un giallo, eh? Anche è un giallo, anche è un giallo. Un bel giallo. E adesso io vi lascio con la rubrica dello chalet del centro, mangeremo un bel piattino del nostro chef e poi linea a Don Francesco Rizzo, è il suo ospite, quindi restate con noi. Buonasera amici e benvenuti nella nostra cucina dello chalet del centro. Stasera prepariamo paccheri con gamberone e granella di pistacchio. Iniziamo con lo sgusciare i gamberi. Ora mettiamo in padella dell'olio, mette stravergine. E spicchio d'aglio. E lo facciamo imbiondire. Facciamo i gamberi dalla cottura. Mettiamo da parte e mettiamo i nostri pomodorini. Un po' di sale. E aggiungiamo un po' di granella di pistacchio. I nostri gamberi li passiamo nella granella di pistacchio, facendola ben aderire. La pasta è quasi tutta. Le la coliamo sommariamente e la mettiamo in padella. Aggiungiamo un po' di liquido di cottura. Andiamo a spadellare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.